Allora, oggi è il primo anniversario del Gabba Day che ha avuto luogo il 9 novembre 2019 e oggi, con il pianoforte forse anche un po' scordato, mi fa piacere festeggiarlo accennandovi 2019. 2019 sul bagnato ci piove, odissa nello spazio, non mancati 18, cappuccino e cornetto, chi l'amore e chi il senso, nel cornetto diverte, nel cappuccio si è rotto, chi la fa si è la goda, mi è la fissa droga, non lo so dal potere. Al di là della norma, del sistema sociale, con un piede nel bene e una scarpa nel male, dietro a queste parole, dentro a cui ci perdiamo, al di là del senso, del progetto immenso, del concepimento dell'essere umano, ti amo. E se mi vuoi ti aspetto qui, dietro a quello che si vede, tra la materia oscura e un po' di schiena e neve, io comunque resto qui, sotto a quello che si tocca, nel cuore della lotta, tra il sublime e il vero, tra lo spirito e la carne. Buon Gabbadei a tutti! Ciao!